3 furti in meno di 48 ore, nelle mire dei banditi alcuni appartamenti della zona Gattolino ad Arezzo. In un caso addirittura padre e figlia si sono ritrovati faccia a faccia con un ladro. Giovedì scorso il primo colpo messo a segno, i banditi si sono dati alla fuga portandosi via gioielli e denaro in contanti. A distanza di nemmeno 24 ore altri due furti, quasi in contemporanea, in due palazzine confinanti. Attorno alle 18.30 di venerdì. Nel primo caso i ladri sono riusciti ad agire indisturbati, prima hanno svuotato l'appartamento e poi sono scappati con un bottino d'oggetti d'oro. Nel secondo caso invece i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari di casa. Tutti sono passati da dietro nel piazzale che c'è, nel cortile, si sono tirati su da una terrazza e hanno forzato i vetri e sono entrati dentro. E uno ce l'ha trovato, uno ce l'ha trovato che era dietro al portone e si era nascosto. Dietro al portone di casa, quando si è accorto, lui ha cercato di fermarlo ma gli ha dato un cazzotto, però è riuscita a scappare. Oltretutto questa aveva una bambina di 10 anni che è rimasta scioccata. Noi abbiamo paura sì. Le famiglie della zona in apprezzione si sentono prese di mira. Hanno preso di mira questo villaggio. Io anche la sera chiudo, spalanco, cioè chiudo tutto perché sono un po' terrorizzata, lo devo ammettere, perché insomma ti ritrovi qualcuno in casa non è una bella cosa. Poi non sai come fai.